Negozio di... C'è una delegata che mi chiede il Green Pass. Le posso chiedere di visualizzare la delega? È l'informativa della privacy? Sto aspettando. È un'attività aperta al pubblico, quindi devo effettuare l'acquisto. Le scape sono anche essenziali. È un bene necessario per il nostro bimbo? Che è qui. Ma la domanda la sta ponendo a me o la sta ponendo a qualcun altro? A lei? La mia azienda mi dice che io posso effettuare i controlli a campioni. Mi fa vedere la delega? L'è autorizzata? Nome, cognome? No, no, non ci siamo capiti, non ci siamo capiti. Lì mi sta chiedendo un dato sensibile sanitario. Il ministro, un attimo solo, il ministro della salute sotto la figura del ministro Speranza deve delegare la sua azienda a fare questa richiesta. Mi fa vedere questo? E io faccio quello che mi dice la mia azienda. Allora, se lei non ci fa fare questo acquisto, le diciamo che noi portiamo questo video in procura. Non so cosa dirle, io faccio quello che mi dice la mia azienda, se vuole io chiamo anche. È un bene, è un bene necessario. No, non mi interessa, chiami pure la pattuglia e mi faccia vedere la sua delega e autorizzazione andiamo a prendere le scarpe? Continui. Sì, sto chiamando in carabiniera e adesso sentiamo come si dicono. C'è una juganda per la sua. Sì, è un belicare. Si, ci sono state a fare questa scolazione. Votre le scarpe? Non ci sono state a scolazione. Non, 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 non. Intr Ho, 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 ho. Lagressione. Non è importante, sono state a scolazione. Non è piena, ci sono state a scolazione. Non è molto iniziata, ma non è più iniziata, non è più iniziata, non è più iniziata. grazie grazie